I ribelli sciiti yemeniti Uti hanno rivendicato domenica il lancio di un missile balistico superficie-superficie, caduto in una zona aperta di un'area centrale di Israele, provocando il suono delle sirene di allarme in diverse aree del paese, ma senza causare feriti o danni significativi. Le forze di difesa israeliane hanno subito dichiarato che il missile proveniva dallo Yemen. Secondo i video diffusi su social media, l'area colpita sarebbe quella disabitata tra l'Od e Modin Maccabin Reut nel centro di Israele. Con la rivendicazione, gli Uti hanno inoltre lanciato un avvertimento. Le difese aeree israeliane hanno lanciato 20 intercettori contro il missile yemenita, ma non sono riuscite ad abbatterlo. È solo l'inizio, ha detto Nasruddin Amer, portavoce degli Uti, in un messaggio pubblicato sulla piattaforma X. Finora, questi attacchi non hanno causato danni significativi, ad eccezione di un episodio avvenuto lo scorso luglio, quando un drone ha colpito Tel Aviv, causando un morto e dieci feriti.